Professor Montanari, il corso di laurea in relazioni pubbliche mantiene, anche lo dicono i numeri, una forte attualità ed è importante considerarlo uno strumento efficace per rispondere alle sfide del futuro della comunicazione. Sì, direi che i numeri che sono stati riportati testimoniano una forte attrattività di questo corso, siamo in una fase di grande cambiamento in cui la scelta dei corsi di laurea da parte degli studenti non è più scontata, il passaggio dalla triennale a magistrare molto spesso coinvolge dei passaggi da un ateneo all'altro e questo corso ha alcune caratteristiche che lo rendono evidentemente particolarmente attrattivo. Ne cito due che sono, uno, la natura multidisciplinare, non c'è una formazione unidirezionale ma si toccano diversi ambiti che spaziano dalle lingue agli studi sociali, all'economia, alla giurisprudenza, all'informatica e l'altro è la dimensione internazionale. Per l'Università di Udine in generale questa dimensione è fondamentale, questa apertura per un corso di laurea in relazioni pubbliche a Gorizia direi che è estremamente naturale ed è un punto di forza sicuramente. Professoressa Vasta, oggi sarà premiato un personaggio davvero, una personalità davvero eccellente ed è un onore anche per l'Ateneo Friulano poter consegnare questo riconoscimento. Sicuramente, noi volevamo premiare una personalità di alto profilo istituzionale per l'impegno e per la condivisione di quelli che sono i valori fondanti del nostro progetto formativo. Abbiamo pensato a sua altezza serenissima Alberto II di Monaco per l'opera di sensibilizzazione attraverso la fondazione da lui diretta che è nata 12 anni fa ai temi della sostenibilità ambientale, del rispetto della biodiversità e anche l'attenzione per quelli che sono poi i valori della responsabilità sociale di impresa in senso lato e quindi qualcuno che incarnasse in qualche maniera lo spirito che noi cerchiamo di infondere nei nostri studenti su questi temi. Ritirerà questa onoreficenza l'ambasciatore, sua eccellenza Robert Fillon, che è ambasciatore del Principato a Roma e quindi siamo orgogliosi e anche molto grati che abbiano voluto accettare il nostro invito. Professor Pascolini, molti passi avanti sono stati fatti dal corso di laurea in relazioni pubbliche in questi vent'anni. Quando vent'anni fa lei ne vide la fondazione e fu tra i promotori di questo corso di laurea e c'è stato un grande cambiamento però nell'universo della comunicazione in questo arco di tempo. C'è stato un cambiamento ma è anche cambiata la società in cui questo corso si inseriva per dare risposte concrete quindi accompagnato, se pensiamo poi alla sua collocazione qui nel Goriziano, a cambiamenti epocali pensiamo ai confini che non esistono più, alla nuova Europa, a un cambiamento dell'economia e della struttura territoriale di questi territori era gioco forza che l'università seguisse questi cambiamenti, li accompagnasse, fosse lievito e al tempo stesso adeguasse le nuove forme di comunicazione. Se pensiamo nel 98 cominciavano a comparire e a diffondersi i primi telefoni cellulari però la grande comunicazione era ancora cartacea e quindi voglio dire tutto questo è stato sempre accompagnato dall'innovazione, è stato accompagnato dall'offerta didattica che seguiva i cambiamenti però con un occhio sempre attento a dare risposte al territorio. Professore Sariem, nel suo intervento lei ha sottolineato la forte dimensione glocal, globale e locale di questo corso di laurea in relazioni pubbliche e comunicazione che è ottimo, lei ha sottolineato, per favorire il dialogo e la cooperazione nell'Europa di oggi e di domani. Certo, diciamo che in questo mondo globalizzato dobbiamo valorizzare sempre di più come dice anche Panikar nel suo bellissimo libro Lo spirito della parola i linguaggi e le dimensioni locale ed è in questa interrelazione che nasce la nostra ricchezza e nasce anche la capacità proprio di relazione, di dialogo dialogico come lo chiama Panikar che è ancora oltre la comunicazione la capacità di ascolto dell'altro, di incontro con l'altro e con l'altra che porta alla ricchezza dell'essere umano. Professor Cillaghi, lei è tra i padri della facoltà e del corso di laurea di relazioni pubbliche dell'Università di Udine a quale esigenza si volle rispondere quando si intraprese il percorso di fondazione e di crescita poi anche di questo corso di laurea? Sì, è una domanda molto interessante perché riguarda proprio la difficile dialettica o il difficile conflitto nella cultura tra il bisogno di rinnovarsi proprio per adeguarsi perché la cultura è della gente, è per la gente, è soprattutto per le nuove generazioni e d'altra parte conservare le cose migliori che sono valori, che sono metodi, che sono obiettivi che sono anche monumenti della cultura. Quindi sì, come umanista, però anche come storico e come linguista io ho sempre tenuto presente che le lingue cambiano continuamente ma non per abbandonare il loro patrimonio solido, le loro grammatiche tradizionali ma per rispondere a mode, tendenze, voglie, appetiti, emozioni nuove e io questo conflitto ho dovuto superare ma naturalmente con l'aiuto di tanti colleghi quella volta, veramente vent'anni fa, io ero di vent'anni più giovane però devo dire che molti che adesso sono i gestori, i docenti solidi, accademici collaudati, pieni di titoli e di saperi, erano dei ragazzini e quindi scegliere tra quei ragazzini senza molto sbagliare è stato un momento emozionante adesso l'emozione si raddoppia perché li vedo belli come il sol, diciamo noi in Veneto però armati, consapevoli, lucidi che è molto importante l'università non per caso ha quasi un millennio di vita e questo millennio è rispettabile Napoleone disse della Chiesa boh insomma dicono che è discutibile che l'abbia fondata il figlio di Dio però provate a resistere duemila anni io dell'università vi dico c'è tanta gente che dice che è superata beh resistete mille anni e poi ne riparleremo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti